Dottore, oggi stavo pensando, no? Ambo Brawl Stars, apriamo i bauli, trovo Leon Dopo il mio cervello ha rielaborato che io apro i bauli su Brawl Stars, Leon Quindi quest'oggi cosa vedremo? Oggi vedremo le animazioni dei Brawl Stars Signori, bentornati sul canale! Siamo a pensare di un nuovo video di reazioni su Brawl Stars Ma non sto dando le reazioni comuni alle animazioni Queste, al caso, sono le migliori animazioni Perché i personaggi sono veramente disegnati in maniera tipo Troll Face Quest, no? Belli, belli, belli Come una patata Vada, vada Partiamo, partiamo Sono pronto, a parte Shelly che è bellissima, eh Il bro che è quello natalizio, dottore Questa è la versione natalizia di bro A me sembra un vescovo, tipo con il cappello... A prego diceva che era uno spacciatore Adesso che è un vescovo È un vescovo spacciatore La copertura Vabbè, non è pesata male Tra l'altro fai i versi di Penny, eh Quanto sono mungoloidi su quella macchina Dai, dottore Ma guarda, è un prank di delinquenti Dai, dottore Storti Ok, vabbè Ma non è il verso di Penny, quello Sì, ma il verso di Penny Ma se Carlo Eh, vabbè Si vede che non c'era Non c'era Ma non ho capito Tra l'altro secondo me si è pure fatto di cocaina Perché non può essere così, dai Ma sei ingrassato, Alfred Eh, lo vede un po' più gonfio sotto Eh, ma sa cos'è Magari è incinto Povero Carlo Ah, mi ha ucciso Un calcione nel retto Ha visto quanto è grosso Non guida molto bene, eh Eh Eh, non l'hai avuto benissimo No, ne ha avuto giù un po' Eh, non l'hai avuto benissimo Non è anche come l'ho fatto Sono un po' arrabbiato Sì, ma È smagrito adesso il primo Eh, ho capito Scegli proprio Cioè, fatto in un modo Fantastico È investito con la macchina No, vabbè Adesso non è capito Che bello Ma era tipo una gang delinquente Tipo Grove Street, dottore Esatto Tra l'altro, vi ho notato Che nel corso della storia Alfred è dimagrito Sì, subito è un vaccone Sembra tipo Pam Poi Che Pam? Cosa Pam? Questa buona La mucca Dice che è così Pam Più gonfio Però, c'è qua Sembra una ballerina Eh, esatto Esatto, danzatrice classica Tendente ad essere un'oca Ma guarda Sembra delle ali Non è la cosa Così Dai Dottore, prossima reaccia Andiamo Andiamo alla prossima C'è un mulo Con uno sguardo piuttosto penetrante Che si possa ritrovare con la mucca Fare porcherie Chi lo sa E penso che c'era anche Pam E poi non è la mucca Non è la mucca Sì, sì, sì Niente mucca No, no, Pam è la mucca Cioè, stiamo scherzando Oh C'è lo squadrone dei muli Un mulo? Madonna, è incazzatissimo Ho preso la scabbia Quella, hai visto che c'è una faccia un po' più Dalla rogna degli animali Magi Adesso potevo picchiare Per me Per me è il mulo della stalla Eh, sì, è mia la stalla È mio il mangime Insomma Sono riscommesso Eh, per Dio Ma che berlocco No, ma le corna È un toro È un mulo È un mulo No, è il mulo È il toro È lei che dice mulo È un toro Non è un mulo Non sono messi proprio bene Eh, no Ne occupo Cos'è stato quel verso? Ma che ne so Cosa fa? Sembra sia al bagno Non lo so Bevo Prima sembravamo disastrati Non sono in salute completa Ma che cos'è? Ma che senso ha? Ah, dottore, quanto mi piacciono le cose No sense Perché c'era la voce di Eugenio? Dottore Non lo so Prima c'era Penny C'è i bivi, dottore C'è i bivi Silenzio Lasci stare Ambrogio Sembra un giovanito Colt È vero Ma vabbè La faccia che è completamente stretta È giusto a bruciapeno È giusto un botone La rabbia che sbava Il champion non penso Vola via Vola via Vola via Eh, quello fa male Eh, povero Alfred Povero Alfred E secondo me È la fitball, no? Che ho visto che Ah, ecco In effetti Ho visto che è uno sportivo Alfred Cosa fa? Ah, sta deridendo Alfred Ma allora Senti, io non ho capito niente Prima si vogliono far fuori Poi stanno timmando Mi faccio capire Non ho capito niente Allora Terza reaction L'ultima cosa che ho capito È stata all'inizio Quando la gang Tipo di Dello spazzatore vescovo E del finto Carlo Che in realtà Parlava come Penny Sono andati a fare I marivuoli Quello genere Sì, esatto Sono quello Diversamente Tutti gli altri Non hanno senso Ma è bello così È bello così Rossi, maria Accentura Ho perso le cuffie Via Oh, moro Eccolo Eh, se belloccio Bring her a doom Ah, ah Ah, ah Torni a do No, vabbè 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 Penny Elfo È fantastica Adesso Vuoi vedere Che poi Se gli ha messo Perché Avrà Carlo Avrà Carlo Primo punch Punch on punch Let's go È il primo L'ha messo bene Ah, ah Sei vabbè Adios, amico Kenji James Dottore Gli occhi di altri Adios Adios Ebbene È buro altro Beh tornerà Alfred no? Sei prostramico in me Ma io non ho più sanguinari Aspetta forse prega il diavolo adesso Guardi E' il primo adesso prega il diavolo Ah no Ok ecco giustamente giustamente Eh le madonne gli salgono Eh Ma cos'è Ma cos'è Ok non ci ho capito niente Un ambrogino me lo fate vedere Dai lo abbiamo rosa Esatto Però comunque sono fatti bene Ah no quello si però ci sarà anche il corvo dentro Questa è una cosa bellissima Beh però funziona Perché con una colpa ha distrutto tutto Eh Usi la testa che poi ha funzionato Ah ma sai cos'è Devo poi la testa si rompe poi Spiadini di rosa Sì penso anch'io Sembra che dico Ah Ah ci picchia Eh sei un po' incazzato secondo me dottore Eh La lingua del corvo dottore E cos'è E' bellissima Ok questa cosa penso si viene Alla una leggenda più bella della storia Guarda Guarda che bella No chi c'è Chi è che la mira Piper Eh sì Ciao Allora lei che spara a rosa Guardate che spara No No il fatto è che Come fa Piper a sparare a quella raffica lì Che radio ha Che umbrello ha preso Ah ecco Sicuramente è rosa Fa una brutta fine È un po' contraria Ah li mette già lì per dire No Prendi no Ecco è andata Almeno Almeno lo sapeva Secondo lei chi vince dottore Ehm Non lo so Forse Forse 8 bit Dici che non si sta menando Le 8 bit di furla tutti Sì esatto Le bombe Allora si fanno bruttissimo fine Eh Mi sa che va male Mi sa che il corvo lo fanno lo spiedo E non puoi volarvi anche il corvo Ciao ciao È voluto via È voluto via È morto Piper È morto Piper Ok ho controllo 8 bit Si schianta Si sta avendo per terra Eh È un po' gangsta eh Perché fai più una retegnata così Ma che ne so Magari vuole fare Roberto Molle come Alfredo Ah come Alfred Vuole avere le doti insomma culturistiche diciamo di Alfredo Ma perché per sparare al salpiede Eh boh Ha fatto il tuo corpo dottore Eh l'ho detto Ma è Alfred È Alfred You lose È Alfred Dai si è fatto 6k di Coppe Easy dottore E questa era pure l'ultima reaction di quest'oggi dottore Adesso mi dica Lei qual è stata quella che le è piaciuta di più Mi raccomando sia Allora la più bella secondo me è la prima Allora la prima è la più bella La scena più bella però è rosa con il coro Con il coro Con il coro che tira fuori la lingua sembra un salame Con rosa che corre come una matta Quella è la parte più bella Esatto però è migliorato fare tutte le cose Prima erano più ignoranti Allora disegna meglio Però erano più bella Però erano più studi da prima Signori faccio per la vostra saluto nei commenti Quale vi è piaciuto di più Soprattutto se vi aspettavate che ci fosse almeno un piccolo ambrogio Non mi ha messo niente Beh magari ritroverà lui per conto suo Signori con Giorgio ci vuolta beccarne un prossimo video Dove faremo sicuramente delle cose E che non sarà trovare le ampe Perché tanto non lo troverò mai Non so che bisogna salutare E che dire qui da Nex E da me Da me Beh basta Poverle mie orecchie È tutto